La sfida di Rai 4 nella stagione televisiva appena conclusa si era quella dell'innovazione e della sperimentazione e in questo senso l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Il percorso intrapreso lo scorso anno dal direttore di Rai Gult, Angelo Teodoli, ha portato i suoi frutti. La rete infatti ha visto crescere i suoi ascolti e ha sperimentato nuovi format rivolti ai più giovani. Rai 4 cambieremo un po' l'assetto della rete, non sarà soltanto telefilm e film ma ci saranno delle produzioni originali. L'obiettivo è quello di cercare di contattare il pubblico dei millennia, si lavorerà molto sul cross mediale, quindi sui vari social, Twitter, Instagram, Facebook e quant'altro per lanciare questi programmi. Alcuni di questi programmi addirittura hanno origine nella rete, saranno trasformati in qualcosa di televisivo, di diverso. Quindi pubblico giovane, questo è l'obiettivo. Tra i programmi di maggior successo della rete c'è Kudos, tutto passa dal web. Un programma condotto da Giulia Rena, Leonardo De Carli e Diletta Parlangeli, con la partecipazione della redazione del programma formata da millennials presenti in studio. Un programma di intrattenimento che mette in primo piano la rete e le sue dinamiche, ma anche attualità, cinema, serie tv, pirateria, cyberbullismo, deep web sono tra gli ingredienti del programma. Ah, Rai4 ha un sacco di nuove cose, il direttore Teodoli ha già dato qualche anticipazione, ci sono nuovi programmi anche che attingono a piene mani dai social, c'è Kudos, io tiro acqua al mio mulino, al nostro mulino e torna Kudos, noi siamo molto contenti con il nostro claim che tutto passa dal web. Ecco, qualche anticipazione? Ancora non sappiamo grandi cose, sia le nostre menti sono all'opera, questo è poco ma sicuro, però non abbiamo ancora insomma indiscrezioni, anche perché noi ci riserviamo anche di darvi notizie via social, i social sono sempre attivi, hashtag Kudos e ci trovate. Diciamo che è una tipologia di prodotto che Rai non c'era, quindi abbiamo potuto dar fondo a creatività, a proposte e lavorare molto su quello che succede in rete, quindi per contattare il tipo di pubblico lì c'è bisogno di conoscerlo bene, quindi insomma abbiamo lavorato, spero bene, poi vediamo. Kudos è stato riconfermato anche per la prossima stagione televisiva, tornerà in onda dal 14 settembre per altre 10 puntate.